Oggi è una giornata molto importante. Sì, perché Race for the Cure è sempre un evento utile, bello, di massa e che apre le menti sulla prevenzione. Per fortuna quest'anno la Regione si presenta con le carte in regola. Ieri abbiamo firmato il decreto che cambia il vecchio regolamento che risaliva al 1997 per rilanciare anche nel Lazio una seria campagna di prevenzione sulla rete oncologica del tumore alla mammella che favorirà un accesso alla cura molto più rapido e molto più responsabile. Inoltre, grazie agli atti aziendali e piani operativi, abbiamo rifondato la rete di cura su questo tipo di patologia. Lo faremo anche sul tumore al colo al retto. Insomma, è una grande giornata di prevenzione in una Regione che sta cambiando e sta tentando di aggredire i nodi della mala sanità. Ripeto, un tema così delicato ancora erano in vigore i regolamenti del 1997. Da ieri non è più così e cominciamo anche qui a ricostruire.